buon pomeriggio a tutti qua un po più tardi del solito a quanto pare deciso secondo me sonico il fatto che non sta andando il playstation stars ha rotto un po di roba sul remoto e play prima perché mi sono ritrovato dovuto cambia password dell'account un macello del playstation network non andava un cavolo dovuto rimetterlo sull'app su tutto sony ultimamente già che mi di solito ti difendo sempre però inizia a cappellarne i miei pari 20 milioni ormai di cose al secondo playstation stars che non vado a due settimane infatti non sto comprando nulla perché che cavolo se rischio di perdermi anche punti tra l'altro ma più di 2000 stanno cappellando un po è su che si è rischiato di fancazze anche che vostro fan da sempre vi difanne anche quando fate delle cacatine se le iniziate a fa giganti speriamo che non rompa il cazzo sotto c'era la spada tra l'altro vorrei finire stare almeno e poi domani facciamo magari il boss finale il vero finale intanto la cosa più lungiosa sono andato a controllare i segni non mi mancano davanti a pochi non mancano tipo 13 c'è un po' di più Ah no, questa è per ridarti munizioni, ok, me l'ho capito. Vuol dire che la live va. Allora, se salta il remote play credo me ne accorgo perché se disconnettenturè anche il pad. Ah, mi sa qui che rampi, ok. Tu guarda, se uno deve avere la para, proprio che non davano nulla. Oh no, c'è qua? Grazie a tutti Grazie a tutti Ah c'è una scava non avevo vista Non vado a non vederla Grazie a tutti Al campo c'è qualcosa Sto dando anche un video sulle polemiche su Dragon Age Boh a me il trailer avanti giocato sull'Inquisition Non avevo mai conito un appartamento Così cagare Ah ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Aspetta Ok 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 Pensavo ci fosse more Cazzo Ok 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 Ehm, non ho fatto l'ora niente, quindi devo usare l'ora per l'ora. Ehm, non ho fatto l'ora, non ho fatto l'ora, non ho fatto l'ora per l'ora. Non ho fatto l'ora per l'ora. Oh, non ho fatto l'ora. Ehm, non ho fatto l'ora per l'ora. Ehm, non ho fatto l'ora per l'ora. Questo arciere di merda è proprio fastidioso come nemico. Forse non mi dice più fastidioso il gioco perchè spammano poi, tra l'altro. Ehm, non ho fatto l'ora per l'ora. Oh, ok. Se c'è la chiave dovrei tornare su. Se lo forse vi trago. Oddio, non ho detto. Una sera di sappiare... ... l'oggetto là dove stava la rara. Ok, non è vero, ok. Sì, non è vero, non è vero. Grazie a tutti. Oh, fermo, bro. Dai! Eh no, bro, così non lo dovrei fare con l'arco. Ah, sì, per forza. Diciamo che non ci ho pensato nell'immediato. No, con questa posso andare nella stanza che c'erò di là, però prima esplorerei l'ultima. No, con questa posso andare nella stanza che c'erò di là. No, con questa posso andare nella stanza che c'erò di là. Ok, così... Hai. No, con questa posso andare nella stanza che c'erò di là. Starebbe prima del boss finale se riuscisse a prendere tutti i semi. Quindi ho fatto due cose sono aggiunto ieri. Ho dovuto fare il boss del arco, poi... Cazzo. E dai, però... Ho avuto un'altra cosa che c'erò di la stanza che c'erò di là. Ho avuto un'altra cosa che c'erò di là. No, non c'erò di là. Grazie a tutti. 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 Non si vedeva. Ma dai, ha fatto pure la schivata, questo bastardo. Non si vedeva. 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 Grazie a tutti. 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 Ah, qua? Uff, diante mi sono andato che sono andato per un altro. Questa HB mi ricordo che la porta di cui ho trovato il locale non avevo la vista, o mi sbaglio altamente. E non mi manca l'ultimo, su allora. Ok. 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 Aspetta, eh cazzo Eh vabbè dai però non così Allora, no, non si capisce questo, eh bro Eh sì, subito Eh vabbè Mi fa caldo questo nido, eh Sì, Death, va che così devo ritornare di nuovo qui E ricordarmi qual'era la strada giusta Eh beh è ovvio, guarda un po' Esattamente Ah ma scusa, allora questo gira Qual è che si accende? No, tutto devi rifà' No Allora, se si attiva quello Ah no, io devo andare Eh, sennò in effetti Spera, non mi capisco Eh, troppo veloce pure Ci sono andato Eh, questo è un po' di borsa Ecco come l'ha fatto Non è che trova l'imboscata Eh, questo è un po' di purezza Allora, l'abbè, io ci provo ràbì Ufff Ufff Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti 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 Perché Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Porca Grazie a tutti 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 Non ci sono Grazie a tutti No Grazie a tutti 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 No, 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 non è ecco, aspetta dove? è dalla porta infatti mamma, l'inizio proprio ecco, aspetta qui Aspetta che Aspetta Orte come in heresco, così Sì Eh dai No 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 Dai Non puoi avere ancora troppa salute Eh cazzo Sono morente tra l'altro Ecco qua c'era Non l'ho lasciato da qualche parte Mi sa un oggetto di quelli I Luciani Finch Esatto Guarda un po' Proprio Qu'è un po' So Devo andare Non so dove In realtà Devo andare Ah qua c'era la scaletta So 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, 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 sì. Grazie a tutti Cosa che ponire? Mi succede intorno alla porta che tanto c'ho le shortcut aperte per metterci meno Sì, dai, che ci meravano meno Se no tocca arriva tutto il giro e gnie 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 bella ripasta Alla prossima. No, perché sono tornato indietro? Perché fa così male? No, perché sono tornato indietro? eh sì Dove c'è più l'altro pontio invece? Guarda cosa c'è vero, vorrebbe mancarmi l'ultimo summon, l'ultimo bot, l'ultimo vaso, suppongo prima del boss. Guarda cosa c'è vero. 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 No No Dai Sono tutti andata Questa si spera Eh Minchia semenavano qua Per che altro sul ghiaccio Bastardissimo Oh li ho presi tutti Benissimo Quindi Quella cosa per le ungame Almeno ho già fatto Questa si spera Questa si spera Eh no Questo vorrebbe stare Ecco perchè era tosto Allora Perchè aveva sto attacco qua Eh dai Eh dai Una presiglia Eh vabbè dai però Cioè io mi allargo Eh con le mosse Eh vabbè no Non si può fa La bomba mi sa La bomba mi sa è Dopo una certa Eh no Eh questa è da tosto Molto E poi guarda se Vediamo Vediamo Non so come ho fatto a non farmi via Nooo Non ho più la Non avevo più Eh dai L'hitbox Però quella Era esagerata Eh Palese che ero Ma preso Fuori Questa è da la La mosse Perchè 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 hanno pure le palle di neve deve tirare e dai bro non mi puoi traccare così eh ti pareva se non doveva avere una mossa del genere un mostro con la neve ti pare se non devi averla eh dai no però si è girato non me l'aspettavo mai sto attacco alla fine questo era tosto eh gli ultimi boss madonna le ultime zone pure no 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 eh cavolo che come mi ha fettuto prima quindi si può girare eh vabbè dai questo eh che rollata di eh vabbè ma mo tutte le rollate me la sbagliate eh guarda fa caldo evro dove andà così immagino il 21 con l'elderring che pacchia corso caldo e fortuna ci sono potenziato con tutta la salute della magia oh che culo era l'ultimo colpo pure per lui grazie a tutti non partirà subito l'ultimo fight spero devo andare io al corpo a questo punto direi che facciamo domani a questo punto ciao a tutti e ci rivediamo domani mattina che facciamo l'ending e il true ending facciamo tutto di fila buona serata e a domani